Pietro Aldi e la Sala del Risorgimento a Siena Polo culturale Pietro Aldi, Saturnia, 14 aprile-15 ottobre Una mostra dedicata all'opera più celebre e impegnativa di Pietro Aldi Due grandi dipinti murali elaborati tra il 1885 e 1886 nella Sala del Risorgimento a Siena L'incontro di Vittorio Emanuele, re da un giorno, con il maresciallo Radeschi, nella cascina di Vignale E l'incontro del re con Giuseppe Garibaldi a Teano Opere che documentano la lunga ricerca e la profonda applicazione Con le quali l'Aldi affrontò un lavoro di grande importanza per la sua carriera, certo Ma soprattutto per la sacralità del soggetto L'unità di uno Stato pagata da tante vite e atti coraggiosi da ricordare